Incontro in prefettura questa mattina tra il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, l'assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, Bruno Di Scepolo, i rappresentanti della provincia religiosa di Napoli, dei frati minori e della sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli, per la sottoscrizione della concessione in uso alla regione Campania dell'ex istituto pontificio, parte del complesso monumentale di Santa Chiara. Il finanziamento è stato ottenuto dalla regione a seguito di un bando indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed è finalizzato alla realizzazione di uno studentato, come conferma l'assessore Di Scepolo, ai nostri microfoni. Stamattina abbiamo perfezionato quest'atto e il comodato uso gratuito che consentirà da parte della regione di utilizzare 5 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero per realizzare questa struttura. Le altre due che sono proprietà della regione sono rimaste fuori dal finanziamento, stiamo lavorando col Presidente per individuare altre risorse per poter realizzare anche queste ultime due strutture. Tutto questo programma ci porterà a incrementare di oltre il 60% quella che è la dotazione attuale di posti letto in Campania, che sono circa 1.500. L'iniziativa consentirà quindi di ottenere l'importante risultato di disporre di una residenza studentesca in un sito strategico, in quanto posto nelle immediate adiacenze a numerose sedi universitarie, offrendo un concreto strumento di sostegno allo studio dei giovani. Così il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Si tratta di una finalità meritoria perché saranno ristrutturate degli alloggi per ospitare studenti volenterosi, capaci, bravi e meritevoli soprattutto. Questo è un po' lo spirito che ha animato questo atto di concessione. Credo che sia una, oltre che a valorizzare il bene di Santa Chiara, quindi uniamo quella valorizzazione del bene del FEC a una finalità meritoria proprio perché c'è necessità di assicurare alloggi agli studenti meritevoli.